E Satana viene anche lì in mezzo a loro E l'Eterno disse a Satana Donde vieni? E Satana risposte all'Eterno Da percorrere la terra e da passeggiare per essa E egli disse a Satana Hai tu notato il mio servo Giacobbe? Cioè qua se andate a leggere di più Vi fa capire che è tutto sotto il comando del padre Yahweh Cioè lui comanda sia il bene, il male, gli angeli cattivi, gli angeli buoni È tutto sotto il suo comando E ha creato tutto questo per la sua gloria Questo regno, come tutti i regni Stavi parlando dei crociati Dei crociati I crociati il quale Sì, hanno usato il nome per fare disastri Per dire che hanno usato il nome di Dio in vano Il nome in vano del padre Per fare i loro più sporci business Guerre di potere E come mi viene in mente Anche una cosa importante Che mi ha ferito Quando hanno usato il nome del padre Per confessare le persone Cioè le persone Il quale Il quale È scritto anche nel Matteo capitolo 6 Versetto 6 Dice il padre Quando tu preghi Entra nella tua cameretta E serate nell'uscio E fa orazione al padre tuo in segreto Perché il padre tuo che vede nel segreto Te ne darà ricompensa E quindi va proprio in contrapposizione In opposizione alla confessione che noi facciamo davanti Dentro a un prete Che autorità ha lui di confessarmi E poi è ipocrisia questo Perché preghiamo davanti a tutti Per far vedere che facciamo cose Invece le scritture ci dicono di tenerci in posti nascosti E poi c'è scritto anche Mi sa nel libro Adesso non mi viene in mente Ma lo posso anche trovare fuori Che dice che Mi padre non dimora nelle case Costruite con i sassi In mani degli uomini Siamo noi come persone la chiesa Quando portiamo il Vangelo vero Il vero Vangelo Vuol dire che siamo noi la chiesa Eh sì, prima dei crociati I crociati Il quale Andando a vedere la nostra storia Le nostre origini I crociati Parlo per gli italiani Questo messaggio Italiani e spagnoli Anche in Germania Diciamo Qua in tutta Europa Anche in Inghilterra Parlo per tutta l'Europa Eh sì I crociati Hanno Hanno fatto guerra A coloro che venivano dalla terra santa Perché è importante conoscere la storia C'è un popolo Che è stato benedetto Su questa terra A differenza di altri popoli Che è il popolo di Israele Ed è importante che voi sappiate oggi Che gli ebrei di oggi Non sono i veri ebrei Perché quegli ebrei Il quale oggi vedete bianchi come il latte Ditemi che possono centrare nella terra santa Dove Lì di ogni intorno Dopo arriviamo anche Sono di un colore diverso Questi ebrei Che Hanno Hanno un'altra somiglianza Dai veri ebrei Che sono sparsi per tutta la terra Beh Hanno Hanno fatto Appena dopo la seconda guerra mondiale Nel 1948 Mi sa Che hanno Creato Questo falso Falso stato di Israele E' tutto falsificato Comunque Se andate a vedere bene la storia Si sa benissimo Che Mi sa Nel Nel 300 300 340 Dopo Dopo la morte di Yahawashai I mori Hanno Hanno conquistato l'Europa E questi mori Sono i figli di Israele Soprattutto Dalla tribù di Giuda Ok Sono stati loro Che hanno portato Diciamo La scienza La conoscenza Di astronomia Queste cose Qua in Europa Scusa Hanno governato Per un bel po' Meglio conosciuti come Arabi Nei libri di storia Arabi Il quale E' stato dato Un nome Per Semplificare Da Napoleone III Da Re Napoleone III Che disse Che tutti quelli Che erano venuti dall'Africa A conquistare l'Europa Erano Arabi Per Comunizzare tutti insieme Ma andando a vedere Nello specifico Parte che c'è chiaro Anche oggi Basta vedere La sola bandiera Della Sardegna Che è la bandiera Che sono i ultimi Quattro Gli ultimi quattro re d'Aragona Sì Sono gli ultimi quattro re mori E' da dire che Quello L'inizio del Medioevo E' segnato dall'era buia L'era buia Che a scuola A storia Non ci viene insegnata Infatti Sì A scuola Ci dicevano Che si sa poco Poco Di questo era Cioè Parlano proprio Poco E niente E quel niente Che ti dicono E quel poco Che ti dicono E tutto Bisogna trovare Le risorse giuste Che raccontano Un'era Dicono Che non c'è crescita Invece Quella è l'era Dove in Europa Governavano I re Di colore I re negri E secondo voi Perché In Grecia E In altre tante Parti d'Europa Vedete Immagini Dei primi re Che erano Mori Scuri come me Statue Che hanno dovuto Fintanto Iniziare a tagliare Il naso E le labbra Per nascondere Sta verità Cioè Comunque Il succo Di tutto questo E per farvi capire Che maggior parte Dei nostri fratelli Sono Più bianchi Di lui Sono anche Biondi Come dicono Le scritture L'Israele È sparso Da per tutto Cioè Vi posso anche Tirare Ci sono versetti Dove dicono Che Israele Sarebbe stato Sparso In tutti E quattro Cioè Nel frattempo Che cerco Sì Sì No È importante Conoscere La nostra storia La storia Che I primi uomini Su questa terra Erano di colore Che ci siamo E mescolandoci Poi C'è anche Il versetto Dove dice Che I figli di Dio Pacevano le donne E si mescolarono Con i figli Degli uomini E da lì Poi Il suo spirito Non avrebbe più Potuto contendere Con 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 L'essere umano È importante Conoscere la storia Da dove veniamo Perché Da dove veniamo Ci fa capire Che Chi siamo 27 Il capitolo Quattro Versetto 27 Del Deutronomio E l'Eterno Vi disperderà Fra i popoli E non resterà E non sarete Interamente Distrutti E qui Vi sarete E lì E qui Vi sarete Fatti dei dei Fatti da mano D'uomo Dei di legno E di pietra Le croce Che trovano Nelle chiese Fatti di legno E la pietra Che adorano I musulmani Nella cabba Il mecca Che in antichità Si chiamava cabba I quali oggi Non vedono Non odono Non mangiano Non fiutano Ciò che Ezequielo 36 Sta accadendo oggi È importante Conoscere la storia Perché Così come ci hanno mentito Sull'identità Del nostro salvatore Gli ahava shai Così ci hanno mentito Su tutto Da dove veniamo E c'è anche Scusa c'è anche Non è Perché alcuni fratelli Sono mescolati Con altre nazioni Sono venuti fuori Biondi Occhi azzuri Non conoscono più Le loro radici Come dicono Come abbiamo letto prima Che là se non conosce Il suo padrone Ma Israele Ma Israele Non ha intendimento Non ha intendimento Non ha intendimento Sì È importante È importante Conoscere Ripeto Come C'è stato mentito Sull'identità Del nostro salvatore Gli ahava shai Così c'è stato mentito Sulle nostre origini Le nostre origini Il quale Parlo per gli europei Derivano Vengono dai mori I mori Che sono Fanno parte Dei figli di Israele Sono Vengono Dalla tribù di Giuda E hanno conquistato L'Europa E gli ultimi quattro Hanno portato Tanta Intelligenza Archeologia Matematica Tante Tante qualità In questa Europa Astronomia Astronomia E poi Con L'autorizzazione Del Papa A Re Giorgio È stato Commissionato Di Uccidere Tutti questi Re A partire Dall'Inghilterra A finire Agli ultimi Quattro Re D'Aragona E ce l'abbiamo La storia davanti agli occhi Quelli erano I nostri antenati Questo è il succo Il succo E quelli lì Sono i nostri antenati E poi dico un'altra cosa Una verità Che non vi porta A ricordare I vostri passati I vostri padri Non è una verità concreta La Chiesa Non vi dà Una Una solidità Così Non vi porta In ricordo Dei vostri padri Le scritture Dicono Quando ti arriva La verità Ti porta Ai ricordi Dei tuoi padri Ed è quello Che stiamo facendo Dalla forza Dei Yehovah Hashem Yehovah Shai Noi Non è per merito Nostro Non siamo Nessuno Siamo solamente Fili di Israele Abbiamo avuto Questa Questa curiosità Di sapere La verità Perché ci sentivamo Qualcosa Ci sentivamo Incompleti Il Padre Ci ha aperto gli occhi Ci ha benedetto Con questo dono Attraverso i nostri apostoli Anziani Della Great Newstone Che ci hanno insegnato Il nostro spirito Ha accettato Ha sentito Questa verità E credo Che questa cosa Succederà A altri tanti fratelli Che stanno guardando Perché Questo non ha a che fare Con la razza O colori O chissà cosa Ha a che fare Con lo spirito Questo è un mio fratello Che sicuramente È un discendente Dei mori Lui Non è stato forzato A accettare Questa verità Lui ha sentito E lui sapeva Che apparteneva a lui Io Perciò Non stiamo forzando Nessuno Con questa verità Intanto Sì Chiunque riceverà Questo messaggio Come una cosa Che dentro di sé Già sentiva Significa che Ha lo spirito Di Yahawah Bashem Yahawah Shai Dentro di sé Chiunque accetta Questo messaggio Chiunque riceverà Questo messaggio Con gioia Allo spirito Dentro di sé E poi Il libro di Giovanni 10 27 No eh Sì Giovanni 10 27 Dice Le mie pecore Ascoltano La mia voce E io le conosco Ed essi Mi seguono Chiunque Chiunque riceve Questo messaggio Del nostro Salvatore Yahawah Shai Che è di colore Sicuramente È una pecora Di Yahawah Shai Che questo All'inizio Si prenderà Con tanta gioia E con tanta euforia Ma dopo Sentirà il dovere Di comportarti Secondo i comandamenti Del padre Perché quella Il vero Come dice Il La conclusione Del versetto Si Del versetto Ecclesiastes Capitolo 12 Versetto 15 La conclusione Di tutto È temere il padre E osservare I suoi comandamenti Perché una volta Che sappiamo La verità Sul padre Ci viene naturale Rispettare I suoi comandamenti Che è la cosa Più difficile Da fare Ad oggi In questo mondo E mi viene in mente Quando ero bambino Una frase Che diceva La strada Del male È larga È facile E quella del bene È stretta È difficile Perché non è facile E anche nelle scritture Non è facile Oggi Al tempi di oggi Comportarsi Secondo la volontà Del padre Si Cioè Se le scritture Dicono Che la strada Che porta La vita Eterna E stretta È quella Che porta La perdizione Allarga Vuoi dirmi Che tutti Questi cristiani Perché la religione Del cristianesimo È la più grande All'inassoluta Vuoi dirmi Che tutti Questi cristiani Tutti questi Musulmani Budisti Dai Ragazzi Pregate Pregate Per conoscenza Davvero Perché Se volete La conoscenza Do bisogno Temere il padre E Osservare I suoi comandamenti È la cosa più importante Per noi E ora Vediamo anche Una prova Che gli ebrei Che sono Oggi In Gerusalemme Non sono I veri ebrei Che È tutto scritto Nelle scritture Qua Leggiamo Da Apocalisse Capitolo 2 9 Vuoi leggere Tu Prima È importante Capire Questa Particolarità Di come Israele Sia uno Dei primi Popoli Su questa terra E Solo 70 anni fa Gli hanno dovuto Dare una nazione Eh sì Questo fa capire Che Non puoi andare Contro le parole Del padre Il padre Ci ha dispersi Per il mondo E non ci ha dato Una nazione Per farlo Io conosco La tua tribolazione E la tua povertà Ma pur sei ricco E le calunie Lanciate da quelli Che dicono Di essere ebrei E non lo sono Ma sono Una sinagoga Di satana Quelli che dicono Di essere ebrei Sono una sinagoga Di satana Giudei Eh sì Anche possiamo Vedere Le cose che fanno Tutto contro La volontà Del padre L'altro giorno Ho visto Il video Che quando Si nasce Un bambino Là Ci sono I rabbai Che vanno Là Fanno le circonscrizioni E succhiano fuori Il sangue Dal pene Del bambino Con la bocca Immaginate Cioè Sono cose oscene Che non esistono Nelle scritture E loro Loro non credono Nemmeno Che il messia E tornato Non credono Che Yahweh È tornato Per loro Deve ancora Deve ancora Nascere Cioè Hanno tutto Contrario A questo libro Qua E io vi dico Cari fratelli E sorelle Che state ascoltando Cioè Qualsiasi religione Qualsiasi Qualsiasi cosa Che vi dice Cose che non sono scritte qua Che non vanno in accordo Con queste parole Potete buttarle via Non vi fanno bene Potete buttarle via E poi La chiesa La chiesa Non ci racconta Nemmeno queste cose Che stiamo cercando Di raccontarvi Perché Se voi guardate bene C'è una licenza Per ogni Ogni chiesa Se noi Dovessimo Aprire una chiesa C'è una licenza Che dobbiamo chiedere Che viene dal Vaticano Si chiama I 501 Tra parentesi C3 Potete guardarlo Su Google Allora Questa licenza Come si dice Previene la chiesa A predicare Si obbliga la chiesa A predicare La verità del padre Nel Nel modo diciamo Mitologico Religioso Religioso Non come Come storia Veramente storia Perché I fatti che ci sono Nelle scritture Nelle sacre scritture Sono fatti storici Realmente accaduti Sono fatti storici Che andrebbero Insegnati A scuola Ma quella Anche la scuola È un È un'istituzione Fatta per Indorconamento Per confondere Oggi Esistono tante cose Per confonderci E per distrarci Ma io Dico Barakatā Yahāwa Barakatā Yahāwa Shai Perché La verità TRIUNFA Eh sì Eh sì E sapete La bellezza È che Una volta Venite in contatto Con la verità Non fa altro Che liberarvi Non fa altro Davvero Che liberarvi Io vedo Tanti fratelli Siete in schiavitù Ancora Siete Siete chiusi La Andando dietro Delle carriere Delle cose C'è Tanti Vivono Per la macchina Alcuni Vivono Per una casa Alcuni Vivono Ma ricordatevi Che questo regno Come un israelita Non è il nostro regno C'è Io vi chiedo Una domanda Vi sembra normale Essere nato Su questo pianeta E pagare Per vivere Su questo pianeta E coloro Che decidono Quanto dovete Pagare Per vivere Chi 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 Li ha Chi Li ha Detto Che Devono Fare Questo Io Voglio Intervenire Riguardo A Una 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 frase Molto importante Che è Per fede E per fede Che noi Rifiutiamo Di essere chiamati Figli Figli D'uomini Ma vogliamo essere chiamati Figli Del padre Yahawa Bashem Yahawashai Bellissimo Perché Noi Cediamo Smettiamo Di godere Per breve tempo Dei piaceri Di questa vita E Del peccato E chi sono I figli Del padre Yahawa Bashem Yahawashai Vediamo Su salmi Salmi 148 14 Poi dopo Tony A spiegare Salmi 148 14 Egli Ha ridato La sua Forza Al popolo Dando Motivo Di lode A tutti I suoi Fedeli Ai figlioli D'Israele Al popolo Che gli sta Vicino Questo è il popolo Che il padre Si è scelto Eh sì Se leggiamo altri Versi come Esodo 19 4 Salmi 55 Isaia 14 1 La vediamo Che il padre Tratta solamente Con il suo popolo Non tratta con gli altri popoli Non tratta con gli altri popoli Tratta solamente Dei figli di Israele Che sono In 14 tribù Come vedete qua dietro Abbiamo la tribù di Giuda Che sono 12 tribù Scusami Ho detto Quanti 14 Scusatemi 12 tribù La versetto 14 12 tribù Poi Lascerò un link Sul video Così Potete Vedere Un sacco Di nostri fratelli Qua in In Italia Anche Non importa Dove sei Anche I veneziani Sappiamo Che c'erano I mori Prima Qua a Venezia Anche Ecco Perché avete I mori Di Venezia O Tello Chissà Erano loro Che governavano Prima Sono Dei figli Di Giuda Ok Tanti fratelli In Sardegna Sicilia Lombardia Rappertutto C'erano I mori Ok Anche in Spagna In Germania In Austria Siciliani Sono Proprio Proprio Dei Dicendenti Dei mori I napolitani Sono Proprio Dei Dicendenti Dei mori Dovete Conoscere La vostra Radice Ecco Perché Coloro Che Vivono Nel Sud Cercano Temono Cercano Di Tenerli Sempre In basso E Questa Cosa E Come si Dice Filosofia Che Trovi Tutta Europa Anche In America Più Sud Vai Vedi Che Hanno Cercato Di Spani Spani I Spanioli E Sud Italia Che Sono Molto Simili Sono Persone Molto Di Cuore E Hanno Uno Spirito Davvero Forte E Amano E Lodano Il Padre Eterno La Quale Voglio Portare Un Versetto Del Deuteronomio 7 Capitolo 7 Versetto 6 Perché Voglio Farvi Capire L'importanza Di Essere Israelita Di Essere Un Vero Ebreo Israelita Poiché Tu Sei Un Popolo Consacrato All'Eterno Che Dio Tuo L'Eterno Ha Scelto Come Tesoro Fra Tutti I Popoli Come Suo Tesoro Particolare Fra Tutti I Popoli Che Sono Sulla Faccia Della Terra Questo È Quello Che È Successo Nell'antichità Il Padre Tra Tanti Popoli Ha Scelto Il Popolo Israele Non Perché Sia Un Popolo Buono Ma Perché Sia Il Meno Peggiore Su Questa Terra A Confronto Di Tutti Gli Altri Popoli E Infatti Ci Ha Domesticato Ci Ha Insegnato Con Il Bastone A Camminare Nel Modo Dritto Ci Conosce Bene Sa Che Siamo Un Popolo Di Collo Duro E Che Non Ascoltiamo I Comandamenti Ma Quando Riceviamo La Verità Si Ritorna Sulla Strada Giusta Quindi Conoscete La Vostra Storia E Per Aggiungere A Quello Che Hai Letto Leggo Velocemente Con Questo Versetto E Chiudiamo Libro Di Isaia 40 17 Vuoi Leggere Tu Tutte Le Nazioni Sono Come Nulla Dinanzi A Lui E Le Reputa Meno Che Nulla Una Vanità A Chi Vorreste Assomigliare A Quale Immagine Lo Rappresentereste Un Artista Fonde L'idolo L'orafo Lo Ricopre D'oro E Vi Salta Catene D'argento Avete Capito Tutte Le Nazioni Dinanzi A Lui Sono Come Nulla Ha Che Fare Solamente Con I Fili D'Israele Infatti Se Leggete Anche Nel Libro Di Apocalisse Penso In Capitolo 18 Vedrete Che Il Regno Di Paradiso È Fatto Di 12 Cancelli Che Rappresentano Il 12 Tribù Di Israele Con Questo Chiudiamo Questa Lessione Alla Dando Tutti Lodi Al Padre Onnipotente Creatore Di Tutto Yah Ha Ba Shem Yah Ha Shai Ba Shem Ruk Ha Kaddash E Diciamo Shalawam A Tutti Akiam E Akwat Che Vuol dire Fratelli E Sorelle Che Sono Sparsi Nei Quattro Nei Quattro Punti Del Mondo Coloro Che Stanno Cercando La Verità Con Sincerità Preghiamo Affinché Riuscite A Trovare Questa Verità A Presto Shalawam Vi Vogliamo Bene Shalawam Riuscite Riuscite